L'IPAB Gurrera Mongada Calafato si avvale del servizio di personale qualificato in grado di svolgere con professionalità il proprio ruolo secondo le manzioni assegnate. Tutti gli operatori sono formati e vengono periodicamente aggiornati secondo le vigenti leggi in materia di prevenzione ingente, primo soccorso, sicurezza sul luogo di lavoro, igiene alimentare. Il ruolo di questa IPAB sul territorio locale è stato sempre indiscusso, ma negli ultimi decenni gli strumenti che le permettevano di svolgere attività sono stati stravolti. La regione siciliana, che è organo tutorial dell'Ende, che contribuiva all'azione sociale con la sua latitanza, ha determinato un percorso di dissesto economico e finanziario. La professionalità e il senso di sacrificio del personale, che pur in assenza a volte dello stipendio continua ad assicurare sempre assistenza agli ospiti della casa del riposo, sono ormai conosciuti a tutti. Il personale che andrebbe valorizzato viene invece mortificato dal totale disinteresse da parte della regione siciliana che contribuiva al costo del personale con la legge regionale 71 del 1982. La regione siciliana avrebbe dovuto inoltre intervenire con una legge di riordino delle IPAB dando alle stesse la possibilità di scegliere se trasformarsi in ASP oppure in fondazione, ma da un quindicennio ancora non provvede. Sempre la regione siciliana aveva addirittura cancellato il contributo alle IPAB ripristinandolo nel dicembre 2016. L'IPAB Gurrera Mongada Calafato ha provveduto a presentare una nuova richiesta di contributo e attende da qualche mese la somma che le è stata assegnata. Intanto il personale dipendente continua ad assicurare e assicurerà sempre con la sua indiscussa professionalità assistenza agli anziani rendendo un servizio di eccellenza a favore del territorio comunale e provinciale nonostante i dipendenti siano stati convocati il 3 dicembre scorso da una lettera con il seguente oggetto. Richiesta di esame congiunto articolo 3 della legge 604 del 1966. La legge prevede il licenziamento multiplo. Per questo motivo i familiari degli anziani ricoverati hanno ricevuto una lettera di sospensione del servizio assistenziale così da svuotare la casa di riposo. Il sindacato Snalve e il suo responsabile Emanuele Bonaffini sta seguendo e tutelando i lavoratori che dall'11 dicembre sono in lotta sindacale ad oltranza per la difesa del posto di lavoro dei dipendenti e del personale dell'IPAB. Ed anche perché sia garantita legalmente con trasparenza e senza nessuna ombra di strani traffici amministrativi con procedure che a partire da oggi il CDA dell'IPAB Gurrera Mongada Calafato andrà ad adottare. Il personale dell'IPAB teme fortemente di vedere precarizzato il posto di lavoro dopo 30 anni e più di onesto servizio lavorativo causando alle famiglie tanta tribolazione e stress. Il personale della cooperativa teme fortemente che dalla privatizzazione iniziata possa venire danneggiata fortemente la propria posizione lavorativa e quindi le famiglie temono di perdere la pace ed ogni certezza che deriva dal lavoro. La regione che promette sempre non mantiene mai continua a dire che la riforma è alle porte ma nel frattempo la gente perde la propria posizione lavorativa. Infine dichiara in maniera molto allusiva il sindacato c'è chi predica bene e poi irrazzola male senza porsi il problema di ciò che può accadere alle persone dopo aver inviato una lettera a provvedimento. Insomma la lotta sindacale parte in tringea. Presto conosceremo i primi risultati. A Natale tutto questo è proprio quello che non ci voleva per niente.